Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi, che vi do il benvenuto in questa nuova serie che ho voluto portare sul mio canale visto che molti di voi mi hanno chiesto appunto nei commenti e nei vari video di fare una serie tipo questa cioè, vi spiego subito, come potete vedere abbiamo il Napoli cioè io vi mostrerò quella che sarà la squadra del Napoli e poi successivamente di altre squadre che saranno a vostra scelta, come giocheranno nel campionato 2015-2016 quindi quello imminente con i vari acquisti, i vari acquisti che potrebbero arrivare e che sono già arrivati e inoltre con una prediction di tutti i giocatori, quindi le statistiche che potrebbero avere tutti questi giocatori quindi spero sia stata chiara questa breve introduzione e questa è la squadra che ipotizzo il Napoli possa giocare possa utilizzare nel prossimo anno calcistico quindi direi di andare subito a vedere i giocatori con Pepe Reina come primo giocatore visto che è stato, è tornato al Napoli dopo quell'esperienza al Bayern Monaco dove avrà giocato sì o no tre partite o qualcosa del genere quindi io non ho voluto cambiare le statistiche di Reina perché praticamente non ha giocato quindi sì, potevo downgradargli qualcosa ma non mi sembrava il caso secondo me Reina più o meno sarà così e finalmente il Napoli ha un portiere degno di quel nome perché l'anno scorso ha giocato con Andukar e Rafael che proprio non si potevano vedere in alcuni casi andiamo con la difesa, riconfermiamo Maggio che potrebbe, dico, potrebbe essere ancora al terzino destro del Napoli gli ho alzato qualche statistica se non sbaglio perché comunque ha fatto qualche gol e qualche assist durante la stagione quindi mi sembrava giusto farlo comunque penso resterà un terzino non raro e sicuramente ci sarà di meglio nella Serie A per il prossimo anno poi come centrale ho messo Maximovic che in realtà non è ancora un giocatore del Napoli ma potrebbe esserlo perché è l'obiettivo numero uno per la difesa del Napoli con un notevole upgrade di più due nell'overall e in tutte le varie statistiche diventerebbe comunque un ottimo centrale per la Serie A che raggiunge i quasi 70 di velocità e comunque come difesa e fisico come statistiche siamo messi molto bene comunque sarebbe un ottimo colpo per il Napoli perché è un ottimo giocatore giovane e potrebbe davvero far bene a risolvere alcuni di quei problemi che il Napoli ha avuto in difesa nell'ultime stagioni come compagno di reparto ho messo Kirikesh che è il nuovo acquisto difensivo del Napoli in realtà potrebbe esserci anche Albiol adesso bisognerà vedere poi come giocherà il Napoli Kirikesh l'ho voluto mettere perché secondo me potrebbe diventare un argento visto che non ha giocato tanto nel Tottenham lo scorso anno e neanche benissimo e quindi potrebbe essere da un gradato ad argento ma lo spero perché io sapete che adoro i giocatori argento quindi Kirikesh sarebbe qualcosa di devastante guardate che statistiche che potrebbe avere quindi mi piacerebbe tantissimo Kirikesh è stato un buon trasferimento bisognerà vedere se giocherà bene ovviamente grazie al cavolo e se si ambienterà nel nostro campionato comunque penso di sì e infine per completare la difesa abbiamo Isai che in realtà lui come ruolo originario dovrebbe essere terzino destro ma potrebbe giocare da terzino sinistro nel Napoli lui è proprio già un trasferimento ufficiale quindi giocherà nel Napoli l'albanese anche esso ha avuto un upgrade che gli ho messo con un upgrade anche delle statistiche quindi potrebbe essere un buon terzino per la Serie A argento non penso verrà upgradato ad oro perché comunque lui se non sbaglio è un 67 poi andiamo a centrocampo Allan altro acquisto altro ottimo acquisto anzi un grande acquisto secondo me per il centrocampo del Napoli che anche lì ha sempre avuto un po' di problemi gli mancava quel giocatore difensivo del calibro proprio di Allan delle sue caratteristiche upgrade notevole per Allan che passa ad oro non raro secondo me con queste statistiche ottime ottime comunque davvero un CDC molto interessante per la Serie A l'anno prossimo poi Val di Fiori altro giocatore neo acquisto del Napoli che non penso aver upgradeato a oro però potrebbe essere un argento molto interessante con un 76 di passaggio o giù di lì anche esso molto interessante un giocatore che potrebbe risolvere anche le grane a centrocampo del Napoli visto che non sempre il Napoli ha brillato per gioco e per qualità poi andiamo con Kayekon che potrebbe riconfermarsi come esterno di destra nel nuovo Napoli di Sarri non una stagione delle migliori per Kayekon ma neanche una delle peggiori comunque ha fatto diversi gol e diversi assist quindi più o meno la carta resterà come quella di quest'anno secondo il mio punto di vista poi c'è Mertens che anche esso più o meno sono le stesse statistiche che aveva lo scorso anno in FIFA 15 quindi non penso cambierà molto stesso discorso di Kayekon ha disputato comunque una buona stagione facendo diversi gol e diversi assist quindi diversi assist quindi penso possa rimanere più o meno così come statistiche poi completiamo con Amsic io ho utilizzato il ruolo il modulo 4-2-3-1 quello con gli esterni in realtà potrebbe giocare anche quello con i 3-3 quartisti oppure passare ad un 4-3-3 con Amsic arretrato un po' più indietro visto che comunque gioca bene anche da centrocampista centrale con gli esterni con le ali vabbè si vedrà ovviamente come giocherà Sarri comunque Amsic ha fatto una discreta stagione non era iniziata nel migliore dei modi si è conclusa in modo positivo per Amsic che comunque ha fatto diversi gol e diversi assist quindi io penso che meriti un upgrade a 84 con un notevole aumento delle statistiche e lo renderebbero davvero un 3-4-3 molto interessante per la Serie A l'anno prossimo e per concludere il Napoli qui abbiamo Higuain che nonostante alla fine abbia sbagliato quel rigore quella Lazio determinante nonostante abbia sbagliato il rigore che poi in Copa America ha fatto perdere l'Argentina comunque ha fatto una grande stagione Higuain con tanti gol e tanti assist tra l'altro per essere un attaccante una prima punta quindi io penso che un 85 minimo non glielo debba togliere nessuno e anche quell'87 di tiro molto interessante che avrà una finalizzazione pazzesca secondo me Higuain tranne nei rigori davvero un attaccante da provare l'anno prossimo se sarà così io me lo auguro perché è comunque un grande attaccante resta comunque un grande attaccante comunque raga questa questa era la serie questo era il primo episodio di questa serie io spero vi sia piaciuta come sempre vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuta ma soprattutto scrivetemi nei commenti qualche squadra che volete che io vi proponga nel prossimo nel prossimo episodio basta che scrivete il nome della squadra che volete e soprattutto mettete il mi piace magari ai commenti degli altri utenti che hanno scritto che magari per esempio se qualcuno scrive colo colo e voi volete la prediction del colo colo mettete un bel mi piace così è più visibile e io sceglierò quello ovviamente non scrivetemi colo colo perché non ne so niente come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale pagina facebook twitter instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione ci vediamo al prossimo video bella raga